dunque gente sono su noveria ho intenzione di fare la missione contrabbando devo andare da un anar chiamato opold che mi darà le coordinate per ritirare questo pacco il pacco si trova praticamente sulla normandi lì di fianco insomma salve spettro avete portato il pacco aspetta un secondo sto solo dando un'occhiata il sottoscritto aspetterà il vostro ritorno nel frattempo parliamo con lei comandante sono felice che abbia trovato il tempo di parlarmi volevo dirle che mi dispiace che anolei sama sia stato colto con le mani nel sacco ma le assicuro che non provo alcun risentimento nei suoi confronti anolei sama le dispiace era solo un criminale capitano alla commissione esecutiva non interessano le leggi galattiche comandante dopotutto noveria è stato colonizzato proprio per questo ma nolei sama si era preso troppe libertà su noveria tutto è permesso basta non disturbare l'ordine pubblico le chiedo solo di limitare al massimo il numero delle sue interferenze lo consideri un favore personale non sono qui per complicarvi la vita grazie comandante ora se mi vuole scusare dovrei fare il rapporto su questo incidente buona giornata tu non hai visto nulla andiamo a ritirare il pacco pacco di opold eccolo bene immagino si debba tornare indietro non è che ci stava il binario nove e tre quarti qua no poldo sono arrivato salve spettro avete portato il pacco ecco la tua roba lo spettro ha svolto un grande servizio il sottoscritto ringrazia con il cuore colmo di luce il sottoscritto aveva promesso una ricompensa per il servizio offerto suggerisce umilmente che una somma di 250 crediti sia più che adeguata no no il cazzo dammi qualcosa in più non saresti mai riuscito a contrabbandare questa roba senza di me dovresti essere un po più generoso le vostre parole sono difficili da digerire ma corrispondono al vero il sottoscritto può aumentare il compenso fino a 500 crediti non può offrire di più altrimenti il suo margine di guadagno sarebbe irrisorio che braccino corto e dirlo a un anaro così va meglio il sottoscritto è lieto di aver raggiunto un accordo ciao ti saluto sto solo dando un'occhiata il sottoscritto aspetterà il vostro ritorno è te vuoi la ciao